Il Comune di Corena Osonio e Deco con il patrocinio della Regione Lazio, la Comunità Montana e il Radio Tireno Centrale vi invitano alla decima edizione di Itinerari Sonori. Venerdì 10 agosto artisti di strada con percorso enogastronomico, prodotti tipici vino e birra, sabato 25 agosto in piazza Umberto I i Calanti, pizziche Tarante del Salento. Vi aspettiamo nel Comune di Corena Osonio per Itinerari Sonori, decima edizione, Radio Ufficiale, Radio Tireno Centrale, la radio dei grandi eventi. Grazie per la visione!